weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiu derone daie weh bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiu der e ragazzi sfide speciali di san valentino ne sono uscite già tre oggi la prima ci chiede di arrivare in top 15 giocando a coppie e ci regala la mimetica di san valentino veramente meravigliosa la seconda ci chiede di aprire dei chest o delle casse di munizioni al motel o as profondo adesso non ricordo dove fosse l'altra parte ma quella più interessante è quella di raccogliere le monete nelle isole in evidenza in modalità creativa intanto voglio ringraziarvi davvero di cuore per utilizzare nello shop il mio codice xiu derone grazie davvero di cuore a tutti per il grande supporto come si fa a fare questa sfida beh ragazzi non è niente di difficile ok non era non era passatempi ma era il campeggio così ce lo ricordiamo bene dovete entrare in modalità creativa una volta che siete in modalità creativa avviate un server nuovo quindi dove non ci sono i nomi dei vostri amici di solito è il più a destra vi trovate nella lobby come vedete ci sono delle isole in evidenza mi hanno consigliato i miei ragazzi di giocare nell'isola di tol molia ci proviamo a buttare la proviamo a vedere insieme come vedete un percorso ad ostacoli avviamo la partita con e facciamo una prova ragazzi e dovremmo riuscire ad ottenere delle monete da qua moneta 1 credo che sia così non so bene che cosa sia successo ma credo che abbiamo preso perché se primo e non mi avvia una partita c'è qualcosa di bagato in questa in questa isola però queste sono le monete ragazzi ok non ho capito o cazzolina ma sei serio vedete ragazzi è una sfida vedi che siamo a tre monete su quindici che storia è una sfida ad ostacoli come vedete ragazzi una volta che perdiamo dobbiamo ricominciare dall'inizio no qua ho sbagliato io ok gg possiamo anche andare senza ok 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 se usciamo e rientriamo ragazzi nell'isola ci ridà di nuovo le monete da prendere quindi molto easy cerchiamo ok di giocarla bene questi sono i checkpoint bisogna capirla ragazzi bisogna capirla ma la la cosa è se noi terminiamo la partita vediamo e torniamo all'isola come vi stavo dicendo prima dovrebbe averci accreditato le monete vediamo un pochettino abbandona la partita abbandona la partita dovrebbe averci accreditato già le monete in questo caso possiamo di nuovo rifare la stessa isola e verranno di nuovo conteggiate le monete quindi niente di esagerato se noi andiamo nelle sfide come vedete ragazzi nelle sfide speciali quelle del tempo straordinario raccogli monete nelle isole in evidenza in modalità creativa ne abbiamo prese 4 su 15 quindi ragazzi una volta che siamo qua come vi dicevo in creativa rientriamo partiamo in un server normale che è questo e rifacciamo nell'isola di tol molia io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video in culo alla balena per le sfide iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao